Il dato che è stato fornito nella giornata di ieri dal portale di indagini statistiche OpenPolice denota un aspetto piuttosto preoccupante per la nostra sanità pubblica. Dalla rimodulazione dei fondi del PNRR, insomma la nuova versione delle stesse misure di aiuti europei voluta dal governo Meloni e dal ministro Fitto, mancano circa 900 milioni di euro da destinare alla sanità pubblica nel nostro paese. È un dato, ripetiamo, preoccupante se si considera lo stato nel quale oggi il nostro welfare e soprattutto le politiche sanitarie sono cadute. È un dato che fa il paio anche con una restrizione delle cosiddette risorse ordinarie messe a disposizione delle regioni per poter promuovere una sanità pubblica che sia all'altezza anche delle esigenze e delle domande che arrivano da parte delle popolazioni locali. Il PNRR che doveva servire a colmare le distanze tra le due aree del paese, il Mezzogiorno e il Nord Italia, in realtà con queste scelte finisce con acuire ancora di più queste differenze, non portarle a sintesi, non risolverle per l'appunto. Manca un dibattito pubblico anche sui grandi giornali italiani che faccia luce su questi temi e che ponga anche interrogativi seri rispetto alle scelte che l'attuale ceto politico sta compiendo proprio su questi fronti e su questi aspetti.